Se adesso tu finissi alla deriva nello spazio, pensi che ti fermeresti dopo un po' o cadresti sempre più veloce? Sempre più veloce. Per qualche minuto non sentirei niente di niente. Alla fine però prenderei fuoco e arderei in eterno. E gli angeli non mi potrebbero aiutare. Per tutti anche loro in un grande vortice. Alla fine. Alla fine. Alla fine. Alla fine.